Benvenuti in MyFootballJersey. Oggi vedremo un'anticipazione per la prossima stagione, la 22-23, della prima maglia del Barcellona, in versione Player. La maglia non è ancora ufficiale, ma si basa su delle anticipazioni rubate da alcuni siti specializzati. La maglia di casa dei Blaugrana conferma un ritorno a valori più tradizionali con design e strisce tricolore con tonalità di blu differenti accompagnati dal rosso. Al netto del modello che verrà ufficializzato più avanti, il look elegante della divisa si arricchisce dell'oro con il logo di Nike e altri dettagli. La maglia casalinga del Barca 2022-23 trae ispirazione dalle divise del club a cavallo del nuovo millennio. I colori sono ad esempio quelli della camisetta dei catalani indossata per la stagione 2001-2002. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione home è progettata per il fisico dell'atleta. Wow! Incredibile! Questa maglia è bellissima! Nella mia classifica prende 5 stelle. Fatta veramente molto bene e incredibile che si trovi soltanto al costo di 18 euro più spese di spedizione. Scusate, 18 dollari più spese di spedizione. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterla acquistare. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità. Se la maglia vi è piaciuta vi prego di farmelo sapere lasciando un like e vi prego di iscrivervi al canale. Ciao! Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia L della versione Authentic o Player, quella progettata per il fisico dell'atleta. Alla prossima!